La domanda che ti faccio è i tre step, i tre passi fondamentali che una persona, un principiante che ha le prime armi deve seguire per diventare un trader di successo. La formula magica che tutti vogliono sapere, i tre step, dai facciamolo così. Fase 1, studio. Ok, quindi prima bisogna studiare. Bisogna studiare, bisogna affidarsi a un qualsivoglia percorso formativo, noi mettiamo a disposizione dei corsi, non deve essere per forza questo, però sicuramente affidatevi a chi, a chi in qualche maniera vi ispira fiducia, a chi pensiate possa essere per voi un buon insegnante. Valutandolo con aspetto critico, possiamo essere noi o qualcun altro sempre massimo. Però studiate, fate in modo che questo tempo che mette a disposizione sia qualitativamente, anche quantitativamente importante. Dovete dedicare il tempo, dovete dedicare, e anche riuscire a capire, perché questa è una fase 1, riuscire a capire se è veramente qualcosa che può interessarvi, qualcosa che può piacervi, perché poi di fatto sarete voi sempre tutti i giorni a mostrarvi di fronte al mercato, mostrarvi di fronte ai grafici, al vostro computer, e quindi dovete scegliere ogni giorno di fatto di mettervi di fronte a questa situazione. Quindi se utilizzate questa prima fase per davvero capire quanto vi piace veramente, e quindi di conseguenza poi da lì, alla fine della prima fase, potete agganciare la seconda, che è poi cominciare con l'operatività. Cominciare con l'operatività, lo straconsiglio di farlo in ambiente simulato, sì, proprio per non, come dicevamo prima, non rischiare del capitale comunque, guadagnatovi con la situazione della fronte, non credo che sia la prima cosa che vogliate fare, subito, solo perché avete comprato un corso, avete speso anche del tempo magari a tentare di imparare altrimenti concetti, subito, immediatamente mettere a rischio il capitale, può secondo me non essere la strada migliore. Non è un qualcosa che dovete fare per anni, il nostro trading in ambiente simulato, però sicuramente dedicare... Dovete arrivare a guadagnare facendo un numero statisticamente significativo di operazioni. Esattamente, e sono voluto guadagnare in consapevolezza, guadagnare in definizione di quella che è il proprio margine, quello di inglesi di official edge, il margine di profittabilità. Anche perché all'inizio, quando inizi anche in demo, magari guadagni anche se sei bravo alla tua strategia, però all'inizio non percepisci quello che sta succedendo, sembra quasi una magia, magari le persone che sono alle prime armi lo vedono come, guarda che magia, va lì e poi riparte nella mia compria e riparte nella mia direzione. Invece poi, facendolo, ripetendolo in demo, uno dice ok, fa questo, succede questo perché dietro c'è quest'altro. Quindi prendi proprio consapevolezza di quello che stai facendo. Inizi proprio a respirare quello che è proprio l'attività, osservare i mercati in tempo reale, iniziare ad agire su quei mercati, iniziare a comprendere le dinamiche, iniziare ad allenare questo muscolo, che poi ti permette di interpretare e leggere quello che sta succedendo e quindi riuscire a pianificare, eseguire, eseguire un trade nel migliorare dei modi. E guadagnare in demo, io dico sempre, è una condizione necessaria, ma non sufficiente. Necessaria perché se hai la tua strategia e non guadagni in demo, non c'è possibilità che tu guadagni in reale. Io consiglio sempre di non ovviamente andare poi, fare la transizione in soldi reali al primo giorno di profittabilità, l'abbiamo detto prima, ogni giorno va preso singolarmente, però sicuramente un metro che posso dare a qualcuno che stia ascoltando, magari 4-6 settimane di consistente profittabilità rispettando una strategia, non perché si è stati profittevoli per un corpo di fortuna, rispettando uno specifico approccio, è una strategia, però possono già essere sufficienti per passare poi alla fase finale, la fase 3 è quella in cui possiamo cominciare poi di fatto l'attività appunto con soldi reali. Attenzione, qui il salto è delicato perché guadagnare in demo, abbiamo detto a condizione necessaria, ma non sufficiente, non sufficiente perché poi nel passaggio in reale c'è lì l'impatto psicologico che ti fa dire ok, non è detto che poi il reale guadagni. Assolutamente, per cui sempre nella fase 2, numero 1, fatelo già con un capitale simulato che sarà lo stesso, un possibile simile al capitale che avrete a disposizione, poi una volta passati con denaro reale, ovviamente fatelo il più possibile davvero immedesimandovi nel fatto che questa, quelli poi di fatto siano soldi che a poco tempo da oggi saranno davvero messi sul piatto, davvero messi in gioco. Quindi alla fine di questa fase, quando fatta con la dovuta serietà, anche il passaggio poi a soldi reali sarà il più possibile. Ci sarà sempre della differenza, un po' umanamente, psicologicamente, emotivamente, un coinvolgimento diverso, sarà quantomeno da aspettarsi, però quanto più abbiamo affrontato questa fase con serietà, come la fase più possibile vicina anche alla realtà, quanto meno sarà poi lo scossone dovuto a passaggio soldi reali. quindi alla fase 3. Fase 3, passaggio appunto in soldi reali, iniziamo rischiando un capitale davvero minimo, iniziamo per gradi, iniziamo sempre con la mentalità di applicare un processo di trading e non focalizzarci sul numero di profitto realizzato o non realizzato del singolo trade, facciamo sempre lo sforzo di fare un bricio del passo indietro e dire ok, io applico una strategia, entro in determinati trades, perché rispondono a quello che ho imparato nella fase 1 e nella fase 2 e non mi invento niente a questo punto di nuovo nella fase 3, se qualcosa dovesse magari non funzionare, si aprono nuovi scenari, possiamo sempre poi fare un passo indietro magari andare a valutare diverse strategie, diversi approcci, diverse rifiniture, ma facciamolo sempre tornando almeno per un periodo in ambiente simulato. Ok, quindi qualsiasi cosa nuovo uno prova a fare sempre in simulato, quando uno vuole fare esperimenti in reale. Perché poi altrimenti succede spesso, vedo persone che iniziano a guadagnare in reale con una strategia, poi la mente del trader è complessa, quindi bastano due giorni filarossi. No, oppure magari mentre hanno la strategia che funziona allora dicono ok, ne devo fare un'altra, un'altra variabile, un'altra variabile, un'altra variante, e quindi si mettono a fare sempre nello stesso conto dove stanno guadagnando con una strategia, altre prove dove però prendono le legnate, quindi gli bruciano anche i guadagni che hanno con la strategia e perdono completamente il controllo. E se perdi la bussola mentre sei nel bosco è un problema. Io sono sempre, sempre un fautore anche dello sviluppo individuale, non solo per il fatto che magari hai visto o hai imparato una strategia da me, per forza deve essere identica a quella che devi applicare tu, lo dico spesso nel corso, un solo capitolo su 12, e sono le strategie, gli altri 11 sono tutto il resto. Ma quindi è una truffa, cioè uno compra 12 capitoli e... Esatto, la strategia è uno solo. Capitolo. Questa è l'importanza... Pensa la truffa. Io compro nel corso perché voglio 12 capitoli che sono solo strategie. Quando le compro... Invece la truffa è quello che ti vende solo la strategia. Ok. Però di fatto quello che poi uno si aspetta è il fatto di comunque continuare a coltivare anche la propria visione del mercato. Quello che dico sempre è quelle strategie che ti vengono offerte, ti vengono servite, sono state d'estate per lungo tempo, sono profittevoli, funzionano, non vuol dire per forza che tu sia il migliore e puoi riuscire ad eseguirle. E allora da lì, no? Può nascere, e secondo me è anche bene che nasca, magari con visione critica, un approccio personalizzato, però non fate esperimenti in live. Anche perché... Tornate indietro, assicuratevi che ci sia una profittabilità che duri almeno di nuovo sempre, almeno 4-6 settimane come minimo, solo dopo questa fase, allora tranquillamente potete cominciare a utilizzarla in soldi. E qui siamo andati, siamo andati anche a puntare il dito contro un falso mito che chi si avvicina al trading ha sempre in testa, no? Cercare la strategia perfetta, la formula magica, le persone credono che c'è una strategia che funziona, devo trovare quella strategia che funziona, che tutti gli altri non hanno. In realtà ci sono infinite strategie che funzionano. Il problema delle persone è che cercando di trovare quella perfetta saltano in continuazione da una all'altra, da una all'altra, da una all'altra e alla fine non tirano fuori niente perché perdono con una, perdono con un'altra e continuano a perdere e nel cercare quella perfetta non trovano mai la strada. Se sei qui cercando la strategia perfetta che funziona nel 100% dei casi, stai già partendo dal presupposto, dall'ondulazione purtroppo sbagliata. e per cui, dall'altro lato, questo non ti dovrebbe scoraggiare a cercare di trovare il tuo percorso perché comunque è molto molto importante dall'altro non cadere nella falsa idea che siccome questa strategia che magari stai provando ti ha dato un cattivo ritornato un giorno o due giorni non debba essere necessariamente stravolta o abbandonata. Cerca sempre di mantenere questo tipo di equilibrio e soprattutto cerca di costruire la strategia io la vedo un po' come un vestito, un vestito deve essere il più possibile adatto a chi lo indossa e calzarlo esatto a chi lo indossa quindi di conseguenza la tua idea deve essere proprio questa. Tu parti già da un vestito che sicuramente è un vestito che funziona poi appunto te lo sistemi te lo sistemi le spalle la vita però stravolgerlo se magari hai una maglietta o un pantalone non è che ti devi mettere una gonna una gonna il giorno dopo o chissà quale altro vestito l'importante è mantenere la stessa struttura la stessa lo stesse fondamenta che poi hai imparato spero nella fase 1 perfetto che poi la stessa struttura è mantenere la stessa struttura Grazie a tutti